Un decalogo per la creatività di Federico Faggin La conoscenza di sé è un processo cooperativo e creativo. Siamo mossi dal bisogno di conoscere noi stessi. Lo facciamo comunicando e cooperando tra di noi e anche competendo. Quando la competizione è onesta e rispettosa, perché motivata dal voler esplorare idee diverse, essa porta ad un avanzamento della conoscenza che è nell'interesse comune. Quando la competizione è motivata dal bisogno di vincere e di essere superiori agli altri, essa diventa distruttiva.